Un grande passo in avanti per garantire i posti di lavoro dei dipendenti di Girgenti Acque e Hidor Tecne, anche dopo il cambio di gestione con l'Ati attraverso la consortile. La Will, al termine dell'incontro di ieri pomeriggio nei locali dell'Ati, alla presenza tra gli altri della Presidente Francesca Valenti, del Vice Presidente e altri componenti, dà un giudizio estremamente positivo dell'accordo raggiunto. È stato stabilito di apportare delle modifiche sostanziali al testo presentato dai progettisti della società d'ambito. Non era scontato questo straordinario risultato, dice entusiasta il Segretario Generale della Will Agrigentina, Gero Acquisto, accompagnato per l'occasione da Giovanni Manganella e Alfonso San Martino. Pertanto siamo molto soddisfatti della battaglia portata avanti a difesa dei posti di lavoro, a difesa dei lavoratori, giacché, pur tra mille problematiche, se riuscite a garantire l'importante servizio. Tutti i lavoratori di Girgenti Acqua e Idrotecnic potranno continuare a lavorare serenamente. L'Assemblea dei Sindaci ha approvato le modifiche e votato il piano d'ambito. Grande risultato per i lavoratori, le organizzazioni sindacali e della Will di Agrigento.